ciao a tutti oggi prepareremo i pancake alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 6 minuti circa più il tempo della cottura gli ingredienti sono nutella farina di tipo doppio zero latte lievito sale zucchero uova e burro andiamo il via alla ricetta mettiamo momentaneamente da parte la nutella che ci servirà al momento della cottura iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina lo zucchero il sale il lievito per dolci le uova il latte e il burro chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 composto è pronto adesso lo cuoceremo in una padella antiaderente adesso procederemo alla cottura dei pancake alla nutella una degli antiaderente faremo scaldare un pezzettino di burro ci sieniamo mezzo mestolo di composto adesso andremo a posizionare della nutella che copriremo con un altro po di composto per pancake facciamo cuocere anche dall'altro lato e continuiamo così sino all'esaurimento del composto pancake alla nutella grazie e alla prossima ricetta ciao